Futuri Passati è una mostra che è stata pensata e concepita per e con Biennale Democrazia, che ringraziamo per averci dato l'opportunità di sviluppare questo progetto molto intrigante. È un progetto che fin dagli esordi, quando l'abbiamo immaginato con Simone Arcani, che nel suo curatore scientifico si prefissava di raccontare come il Novecento avesse immaginato, descritto, rappresentato il futuro e come oggi noi nel nostro presente siamo ancora in grado di immaginarlo, di rappresentarlo. È un progetto che si colloca bene nel senso anche della tematica di Biennale Democrazia ed è un progetto che è stato sostenuto da Compagnia di San Paolo, che ha consentito che questa mostra si realizzasse insieme ad altri progetti. Nel 1975 il neonato Club di Roma organizza uno studio molto particolare. L'idea è quella di mettere assieme dati provenienti dall'economia, dalla finanza, dalle tecnologie e dalla scienza ed elaborarli in maniera complessa. Per fare questo si avvale dei grandi computer dell'MIT di Boston. Nasce da questo momento una nuova importante disciplina chiamata futurologia, cioè l'idea di usare statistica e dati e magari anche dei grandi computer che possono elaborare questi dati per elaborare in chiave predittiva i dati e quindi sapere cose riguardanti l'economia, la finanza, il cambiamento climatico, la società. Questa è la futurologia. Parallelamente, anche se con un grande anticipo, nel 1902 lo scrittore famoso per la fantascienza, Herbert George Wells, rilascia un paper riguardante il futuro della scienza e della tecnologia. Wells era anche uno studioso, uno scienziato. Nasce anche con quel paper un'altra futurologia, una futurologia legata ai racconti, legata a delle personalità che stanno tra la letteratura e la scienza. Ecco, la mostra Futuri Passati parla proprio di questa futurologia, cioè di quando i racconti realizzati da illuminati scrittori, diciamo così, o meglio ancora scrittori scienziati, hanno provato a guardare il futuro prossimo attraverso un'osservazione attenta e spesso partecipata della scienza e della tecnologia a loro contemporanea. Novecento e duemila, due secoli, uno finito, l'altro appena iniziato, che ci hanno raccontato e ci stanno raccontando il futuro, come si vede il futuro, quale potrà essere il futuro, con quali racconti si potrà anche orientare il futuro. Noi abbiamo scelto proprio di focalizzarci sul novecento e duemila e all'interno di questo focus alcune parole chiave che ci hanno condotto nel nostro percorso. Le città, la scienza, la tecnologia, i racconti utopici e i racconti distopici. Questa è la mostra Futuri Passati. Ed è la letteratura il primo dei linguaggi che siamo andati a esplorare nel nostro percorso sulla futurologia. La letteratura del Novecento, tra i grandi autori che hanno pensato una fantascienza più rigorosamente scientifica, e anche quella letteratura di consumo popolare, come i romanzi pulp, fino ad arrivare al duemila con la grande tradizione della fantascienza realizzata da scrittori che oltre a essere innovatori, oltre a essere fantasiosi creatori di mondi, erano anche studiosi di scienza e di tecnologia. Ed eccoci nella seconda sala, quella dell'immagine, come artisti, creativi, designer hanno immaginato il futuro. Cartoline, copertine di dischi, copertine di libri, opere, come nel caso delle opere di Franco Brambilla, l'autore che ha disegnato alcune delle più belle ed incredibili copertine della famosissima rivista editoriale Urania. Le cartoline del futuro, che nel Novecento si immaginavano nel duemila, e poi i disegni, i progetti architettonici del visionario architetto Antonio Santelia, che si era davvero immaginato la città del futuro. È il cinema, il grande luogo degli immaginari, soprattutto del Novecento, e al cinema è dedicata alla terza sala della mostra Futuri Passati. Il cinema con le sue storie, con le sue immagini, con i suoi grandi racconti di una fantascienza che ha saputo prendere a piene mani dalla scienza e dalla tecnologia contemporanea. Abbiamo avuto poi il patrocinio e il sostegno di Rai, delle teche Rai, che ci hanno consentito di fare una cosa meravigliosa. Cioè di portare dentro la mostra frammenti di una trasmissione importantissima del secolo scorso, che si chiamava Vent'anni al duemila. Una trasmissione che era curata, coordinata da Alberto Sinigaglia, in cui le migliori menti e gli intellettuali di quel tempo ragionavano sul futuro. In realtà le mostre non sono mai delle operazioni autonome, sono sempre delle avventure corali. E come tutte le avventure corali, questa è un'avventura che ha diversi compagni di viaggio. Innanzitutto il MUFANT, il museo fantastico, che ci ha dato una mano straordinaria nel pensarla, nel realizzarla e nel portare nella mostra degli oggetti meravigliosi, oggetti fisici e oggetti che abbiamo digitalizzato. È stata fatta anche grazie all'aiuto, al lavoro del Museo Diffuso della Resistenza, è stata fatta grazie a tante persone che l'hanno resa possibile, che l'hanno immaginata. Ci sono soggetti come ad esempio l'Archivio Nazionale Cinema della Resistenza, che ha lavorato straordinariamente sulla costruzione anche di un immaginario visivo nella realizzazione di interviste, perché poi un punto importante è proprio quello di interviste che abbiamo fatto oggi ai cosiddetti futurologi o esperti di futuro. Abbiamo intervistato Peter Freis, Deride Kercove, David Orban, Roberto Paura, Oriano Persico e Salvatore Iaconesi e Cristina Pozzi. Grazie a tutti.